se questa è la tua vita se questa è la situazione che trovi tutti i giorni al lavoro non perderti questo video perché oggi andiamo a vedere proprio 5 esercizi da poter fare direttamente al lavoro per far passare e prevenire qualsiasi problema di schiena o dolore muscolo scheletrico ciao a tutti Gianluca Italiano il miglior fisioterapista al mondo secondo i miei figli ovviamente se non ti sei iscritto al mio canale fallo subito in questo video parliamo appunto di postura sul lavoro e di 5 esercizi utili da fare per sgranchirsi tra un'ora di lavoro e l'altra prima di iniziare una notizia buona e una cattiva la cattiva è vero il lavoro fa male si è visto a livello scientifico che chi sta 8 ore al computer ha una possibilità del 50% maggiore di sviluppare dolore muscolo scheletrici e addirittura anche di morire precocemente legata proprio al fatto di stare sempre seduti la seconda quella buona è che attraverso una serie di esercizi che ti farò vedere anche adesso questi 5 esercizi si possono prevenire moltissime problematiche muscolo scheletriche e anche allungare la vita per cui seguile attentamente esercizio numero 1 stira le gambe sgranchisci la schiena ti metti dietro la sedia ti pieghi in avanti magari appoggiati bene anche sulla scrivania e ti stiri bene rilassa la testa devi sentire bene la tensione qua dietro le gambe e poi puoi allungarti prima da un lato per stirare bene il lato destro e poi dall'altro per stirare il lato sinistro rimani in questa posizione 30 secondi lato destro torni su fai una bella estensione indietro sollevi le braccia in alto e poi scendi e cambia lato e stiriamo il lato sinistro per 30 secondi e torniamo su esercizio numero 2 prendi la sedia la metti dietro di te ti appoggi sulla scrivania appoggi il piede sulla sedia e vai giù a stirarti abbassiamo un po' la telecamera così lo vedi meglio appoggio il piede e scendo giù per stirarmi devo sentire la tensione sul lato rimango in posizione per 30 secondi rinforzo bene la gamba sinistra sentirò lavorare il quadricipita da una parte il gluteo mentre stiro la gamba destra torno cambio appoggio il piede destro appoggio sinistro sulla sedia scendo giù e tengo la posizione 30 secondi cambio lato e riposo esercizio numero 3 rinforziamo le spalle prendo la sedia la sollevo scendo e torno sollevo scendo sollevo scendo sollevo e scendo facciamo 10 volte esercizio numero 4 stiriamo bene gli adduttori allarghiamo le gambe il più possibile piego da una parte stiro bene la gamba destra tengo 30 secondi teniamo bene la schiena dritta il petto in fuori devo sentire tirare l'interno coscia il piede destro guarda in avanti tengo la posizione 30 secondi e poi cambio lato vado giù di qua schiena bella dritta 30 secondi e per finire il quinto esercizio quello che piace di più a tutti stirare bene la parte anteriore andiamo ad appoggiarci bene sullo schienale indietro le mani dietro la testa ci lasciamo cadere lo sguardo in avanti e poi apriamo le braccia e teniamo la posizione andiamo a stirare bene il petto e le braccia senterà una leggera pressione anche sullo sterno e dietro il torace che ogni tanto farà anche qualche cric e croc da qua le mani dietro apro bene i gomiti e anche qui ancora sento tirare bene la zona tengo per 30 secondi e poi riposo ok eccoti qua i 5 esercizi puoi farli fin da subito nella tua postazione di lavoro per quanto riguarda la posizione di lavoro c'è una cosa che devi sapere non è tanto importante la postura che tieni ovvero stare bello dritto con lo schermo lì davanti la schiena dritta in quel caso non c'è niente che sia migliore dell'altro anzi probabilmente se stai bello rilassato è meglio ma è importante invece che ogni mezz'ora o massimo un'ora ti muovi e cambi posizione per cui intervalla ogni ora di lavoro con questi 4-5 esercizi che durano veramente 2 minuti ma che ti danno il beneficio di poter poi lavorare fino a tardanotte senza avere dolori permanenti non sottovalutarli perché è molto facile avere poi disturbi buon lavoro